Francesco Della Lunga, l'anno scorso a parte il secondo posto che hai il campionato italiano, hai tutte le grandi corse e le hai vinte, ti vuoi riscattare oggi? Sì certo, l'anno scorso feci un gran secondo posto, quest'anno ci si riprova, speriamo nella vittoria perché l'anno scorso rimase un po' qui in gola il secondo posto, speriamo che vada meglio. Condizione ottima in questo momento? Sì sì, le gambe vanno molto bene, vinsi domenica scorsa il campionato toscano e quindi sono messo molto bene, speriamo meglio.